È stato presentato nella mattinata di oggi, 9 settembre, nella Villa Paravicini di Traona, l'evento enogastronomico dal titolo Gusto Zando, Bresa Olando, costiera dei Czech in cantina. La manifestazione, articolata in più appuntamenti e in un periodo che va dal 24 settembre al 16 ottobre, è un tributo alla scoperta dei piatti della tradizione e dei vini valtellinesi, sullo sfondo di antichi borghi e cantine che hanno fatto la storia della bassa valtellina. Dal 24 settembre al 9 ottobre la bassa valtellina si appresta ad organizzare Gusto Zando, Bresa Olando e la costiera dei Czech in cantina. Sono degli eventi importantissimi dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista turistico ed economico della bassa valtellina. Ricordiamo che è un evento straordinario che riesce a mettere la sinergia tra tutti i territori della bassa valtellina, di fatti aderiscono ben 10 comuni. Il consorzio turistico Porte di Valtellina si è fatto promotore di questo evento, da coordinatore tra sia le amministrazioni ma anche per le associazioni che sono un po' il cuore della manifestazione, coloro che accoglieranno tutti questi visitatori. Ardenno, Buglio, Traona, Cercino, Albaredo, Dazio, Civo, Mello, Caspano, Gerola Alta e Bema. Queste le tappe e gli appuntamenti da segnare in agenda per tutti gli amanti della cultura e del patrimonio vinicolo e della cucina valtellinese. In tutti i comuni della bassa valtellina, sia nel versante retico che in quello aerobico, potete visitare gli eventi Gustosando, Bresaolando e Costiera dei Ciacchini. Per raggiungere questi comuni è facilissimo, basta andare a Morbegno, che saranno organizzate delle navette che collegano tutti i comuni partecipanti all'evento, oppure recarvi con i vostri mezzi all'interno dei comuni dove potete acquistare direttamente lì il pass. Tutti i comuni hanno circa una decina di postazioni, tra cantine, tra operatori, dedicate proprio all'accoglienza delle famiglie e di tutti coloro che vogliono passare dei momenti lieti in ambienti veramente suggestivi e particolari. Ottima iniziativa a settembre-ottobre nel mandamento di Morbegno, dove i magnifici dieci, dieci amministratori che si sono messi in gioco in questo lasso di tempo molto breve per organizzare degli eventi enogastronomici nel nostro mandamento. Saranno due mesetti molto intensi, parteciperanno circa un centinaio di associazioni che sarà una festa di rilancio del mandamento sia turistico che enogastronomico del Morbegnese.